Ciao a tutti, oggi è l'11 luglio 2019, ho fatto un giro al pomeriggio, guardate qua, guardate che porcino, è all'estivo come vedete, sentiamo il rumore, bello sodo, guardate, un saluto anche a Bruno, bellissima la nostra uscita, guardate che meraviglia, sentiamo il rumore, upala, è bello grande, è anche bello sano, speriamo di trovarne altri, vi saluto ragazzi, guardate che meraviglia, ciao a tutti, guardate, qualcuno o qualche animale ha preso questo, guardate, e guardate qua cosa c'è, che bellezza, guardate, che meraviglia, diamo un bacio anche a questo, speriamo di trovarne altri, ciao a tutti, bello fresco, e qua c'è il terzo, guardate che porcino, ho preso l'acqua perché è piovuto, però guardate, sarà da seccare, sentiamo, bello gambo, sentiamo, bell'estivo, guardate, vi saluto ragazzi, dai per un giro di un'ora ora, sono felice, da seccare, ma va bene, dai, ciao a tutti, dai, per essere un giro di un'ora e mezzo, questo è il quarto, vi saluto ragazzi, un saluto anche a Bruno, guardate che bell'estivo, sentiamo un po' di musica adesso, direi che suona bene, sentiamo, non male, un po' mangiatino, ma bellissimo, guardate, e con questo vi saluto, concludiamo la giornata, ciao a tutti, oggi belli grossi. Ciao a tutti, ciao a tutti, ciao a tutti, ciao a tutti.